Buonasera dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI possibili disagi per un incidente tra Ponte del Resto e Montopoli-Valdarno, verso Firenze. Si ricorda che fino all'8 dicembre c'è il tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di Via Quaglierini a Livorno della FIPILI per una flana avvenuta proprio in FIPILI a chilometro 79 e 865. Per la viabilità cittadina a Firenze, dal lunedì fino al 22 marzo, tranne il sabato e la domenica, in orario notturno, verranno effettuati i lavori di asfaltatura in Piazza Ferrucci. Infine per i treni, fino alle 4 di lunedì sospesa la circolazione sulla linea Bologna-Prato tra Pianoro e Prato, organizzato un servizio bus sostitutivo al posto dei treni regionali. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!